Altra cosa è la commissione d'inchiesta. Noi abbiamo chiesto in capigruppo ai sensi dell'articolo 95 che l'Assemblea determini anche una commissione d'inchiesta per verificare realmente cosa si può fare all'interno dell'amministrazione perché molte di queste dinamiche sono comunque per legge demandate ai dirigenti e ai funzionari dell'amministrazione quindi non è solo un fattore di carattere politico ma anche un fattore di carattere tecnico e nuove norme per la nomina dei consiglieri d'amministrazione e dei vertici delle aziende partecipate. Sono queste le linee che Forza Italia porterà ma soprattutto la cosa più importante è la vicenda dell'autoscioglimento.